Buongiorno Ottoliner, buongiorno a tutti quanti. Oggi abbiamo una nuova rubrica, è un pululare di nuove rubriche in questo periodo. Allora, oggi la rubrica si chiara 8 Pop, scusate, e avremo con noi Dino Lanzaretti. Dino è un blogger che si occupa di viaggi in bicicletta e io mi sono appassionato a seguire il suo profilo su Instagram, su Facebook, ai vari social. Io mi sono approcciato a lui tramite Instagram e ha un profilo bellissimo, interessantissimo, dove quindi lui ci parla dei viaggi che svolge e di come sta continuando a girare il mondo. E prima di iniziare a registrare stavamo parlando, lui diceva ma sì, è tanti anni, non viaggio così tanto. In realtà ha viaggiato tantissimo, io voglio di invidia guardando quel profilo, ma andiamo direttamente a parlarne con lui. Ciao Dino, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao ragazzi. E guarda, ciao, iniziamo subito da una cosa. Com'è nata questa passione e com'è nata l'idea poi di trasformarla, immagino, in un lavoro, perché questo che fai è un lavoro, penso, no? Dimmi. Adesso è diventato un lavoro, partiamo da veramente tanto tempo fa. Io ho cominciato a viaggiare per una reazione emotiva a una specie di piccola depressione, avevo vent'anni, non sapevo della vita cosa fare, e lavoravo di fianco a un cimitero, un ufficio, e c'era il cimitero fuori dalla porta, e vedevo tutti i giorni i funerali, i funerali, i funerali, boom! Mi viene alla mente di un ventenne, arriva a gamba tesa, il pensiero della morte, ce l'avevo lì, e ho fatto un cortocircuito col fatto che dovevo stare 40 anni in quell'ufficio lì per poi attraversare la strada, per andare al Camposanto. Mi sembrava una vita troppo corta. Quindi di reazione sono scappato, e il modo migliore che al tempo pensavo scappare era viaggiare. Quindi ho cominciato a viaggiare. Poi in questi viaggi ho conosciuto per caso la bici, e ho preso sulla bici e ho detto, ostrega, questo è quello che voglio fare da grande. Poi da lì vai, vai, gira il mondo, fa un paio di volte il giro del mondo, e poi riassumendo la cosa, alla fine sono riuscito a coinvolgere anche altre persone, e al momento accompagno persone poco sane di mente a vedere i posti più belli del mondo in bicicletta. Ecco, riassunto di vent'anni. Questo è un mega riassunto, quindi sono vent'anni che fai questi giri. Senti, c'è una mappa che mi aveva colpito. Mario, se la ritrovi, mandala quella, perché è bella. C'è una mappa dove mostri i vari giri che hai fatto. Ho visto che praticamente hai fatto tutto il continente americano, da nord a sud, e ad esempio quello lì l'hai fatto a più pezzi, cioè l'hai fatto in un unico viaggio, oppure l'hai fatto a pezzetti, nel senso sei mesi una parte, sei mesi la parte dopo. Cioè come funziona un viaggio del genere? Bravissimo, esatto. Ma dipendeva sempre da quante finanze avevo. Io per finanziare la mia passione, ovviamente al tempo non c'erano i social, non potevo tirare su soldi da varie collaborazioni, eccetera. Quindi facevo il cuoco nei rifugi di montagna, perché in breve tempo potevo guadagnare abbastanza soldi, poi prendevo sulla bici e pedalavo finché bastavano i soldi. Poi tornavo, rifacevo un'altra stagione e rimettevo via i soldi per la stagione dopo. Quindi io praticamente l'estate le passavo in montagna a cucinare canedali e stinchi, e gli inverni li passavo a pedalare. Quindi le americhe le ho fatte, il primo pezzo, da Ushuaia a Panama, poi lì oggettivamente serve un volo per attraversare lo stretto. Quindi tornavo a casa, cucinavo, tornavo lì e facevo un altro pezzo. Così per alcuni anni. Ci sono alcune tracce di questo viaggio, invece che ho preso dei periodi molto più lunghi, tipo un anno piuttosto che, però era sempre determinato dalle finanze che avevo, chiaramente. E vivevo in tenda, mangiavo cercando di spendere meno soldi possibili, appunto perché voleva dire poter estendere il viaggio più a lungo. Senti, vedo anche che hai attraversato l'Africa. Quello l'hai fatto in un'unica tirata oppure l'hai fatto a pezzettini? Sì, quello è breve. Tutto sommato l'Africa è oggettivamente semplice per il punto di vista di pedalare, ma è abbastanza avvolgente per il punto di vista umano che c'è da vivere. È un viaggio stupendo, meraviglioso, però oggettivamente semplice. Ma al tempo quel viaggio lì l'ho fatto con una fidanzata. Quindi siamo andati io e la mia amorosa del tempo, abbiamo attraversato l'Africa in bici insieme, è un'avventura pazzesca, incredibile, però paradossalmente uno dei posti più sicuri dove io sono stato e con un'umanità dove veramente pensano tutto gli altri. Praticamente andare in Africa è veramente la cosa travolgente. Però immagino che è una cosa del genere in bicicletta. Cioè una delle domande che mi faceva, ad esempio, vedendo te che attraversavi tutta l'Africa, pensavo, cavolo, quello lì è un viaggio che fa solo in bicicletta. Cioè lì c'è di avere documenti, visti, cioè lì attraversi svariati stati, non necessariamente facili, cioè magari anche con delle rivalità tra loro, delle problematiche interne, politiche, economiche. Quindi la cosa che pensavo è lì, cioè vuol dire che tu c'hai uno zaino che ti carichi sulla bici o in spalla e che attraversi tutto il continente, quindi con documenti, soldi, visti, permessi, non so, c'è immagino anche un'assicurazione, cioè delle cose insomma cartacee o elettroniche che ti devi portare dietro. Quindi però mi sembra in realtà che tu la presenti come una... a me sembra una cosa rogambolesca, molto avventurosa, però in realtà tu la presenti come una cosa molto serena, molto tranquilla. No, quelle cose lì devi sapere. Cioè se tu nella vita viaggi in bici, la prima volta che incontri un altro tuo simile in giro per il mondo, la prima domanda è ciao, la seconda è dimmi i visti che hai fatto per uscire dal paese che io sto entrando. Cioè le informazioni di quel genere lì sono preziose come loro. Ecco, una delle cose che io ho imparato e che è uno dei servizi che do adesso al mio lavoro è questa cosa qua di passare le frontiere. Se io ho passato frontiere dove non potevo, sono stato incarcerato perché non potevo essere lì, in Africa soprattutto sapere come fare nel paese dopo, sapere come farti insomma ben volere, non far casini, eccetera. Ed è lì nasce la mia passione sfrenata per la geopolitica, devi sapere un sacco di cose per viaggiare nel modo sereno. Hai due modi, o vai di inezia, per botte di fortuna vai oltre, oppure io sendo un fifone avevo bisogno assolutamente di sapere ogni cosa a livello burocratico, ogni cosa a livello legale e soprattutto comportamenti che dovevo ottenere in alcuni posti perché chiaramente un viaggiatore come primo comandamento ha risposto. Ci vuole veramente una grossa documentazione, ci vuole un libro, ci vuole passione, ci vuole veramente sogni. Vivi perché è un sogno della tua vita quello di andare oltre quella frontiera lì. Quindi ti informi, studi e come ti dicevo se incontri qualcuno che è passato di lì prima di te, cioè veramente come l'acqua nel deserto, dimmi cosa hai fatto e per adesso mi è andata sempre bene perché appunto sono un maniaco del controllo, soprattutto nelle frontiere. perché insomma fare cavolate al momento sbagliato ti costerebbe veramente tanto. Certo, certo. Senti, vedo invece due viaggi più piccolini e più vicini, però in due paesi diversi ma entrambe affascinanti. Cioè Marocco, penso sia il Marocco con la cartina e l'Islanda. Quelli lì sono due viaggi che immagino che hai fatto in un giro unico, no? Sì, sì, sai sono quei, magari stai facendo dell'alto nella vita, io sono ovviamente legato al viaggio, è il mio modo di esprimermi, non è il mio modo di reagire a ogni cosa. Quindi quando la vita magari dice, prendo sulla bici e vado, no? E quei viaggi lì sono alcuni viaggi che mi hanno sconvolto perché sono vicini, ma veramente in quattro ore sei lì, ma vivi un'avventura veramente incredibile. Mi ricordo quando ero in Islanda e dicevo, porco cane, io ho sempre pensato che dovevo andare in mezzo all'Himalaya, cioè dall'altra parte del mondo, per vivere un viaggio avventuroso e invece è qua vicino a casa, no? Quindi sono delle mete che spingo le persone ad andare a visitare, perché oggettivamente in dieci giorni, cioè quello che magari una persona che lavora può permettersi, no? Una vacanza, può veramente vivere un'avventura come io considero l'avventura, cioè il fatto di essere pienamente a contatto con l'ambiente, ambiente incontaminato, natura aspra e avere allo stesso tempo uno shock culturale, cioè stare con le persone in un contesto, in una cultura diversa. Vabbè, l'Islanda ha meno, ma quando cominci a mettere piedi in Africa, cavolo, veramente cambi marcia, no? E anche lì è veramente uno scoprire cose nuove, stimolanti e quello shock culturale per un viaggiatore è fondamentale. Quindi tanta gente, molto restia anche appassionati di bici, a vedere il mondo, perché vabbè, finché trovo la pizza e lo spaghetto mi muovo più, là non vado. Però cerco di spingere le persone appunto in paesi così diversi, però così vicini, ed ho sempre avuto reazioni estremamente soddisfatte, quasi sconvolte, per quanto bello, per quanto semplice, per quanto sicuro sia viaggiare in paesi che noi manco immaginiamo esistano. Ma immagino poi che sia anche un viaggio, in generale il viaggio è anche un momento di autoriflessione, ma immagino che un viaggio del genere in un contesto completamente diverso, con i ritmi della bicicletta, dove immagino che ci sia anche tanto tempo per stare con se stessi, no? Cioè si ha anche un viaggio interiore in qualche modo, ancora di più magari di un altro tipo di viaggio, o sbaglio? Credo che sia la parte fondamentale. Io ho fatto molti anni di alpinismo, ho scalato montagne, solo che nello scalare montagne veramente hai il focus sul chiodo che pianti, cioè stai facendo una cosa che è 100% concentrazione sul movimento, sul lato che fai. Quando viaggi in bicicletta hai una specie di movimento costante, che è la pedalata, che può essere una specie di mantra ciclico, e lì ovviamente devi riempire la mente in tutte quelle ore che passi sulla sella, e lì il tuffo è dentro di te, quindi io quando ho cominciato a viaggiare mi stavo abbastanza antipatico, poi col tempo mi sono conosciuto, rifletti un sacco, rivedi le cose, a me piace moltissimo fare questo racconto, che quando parti in bicicletta il primo mese che pedali sei attaccato ai ricordi di quando eri a casa, tutto il tuo argomento diciamo sui pedali e su quello che eri, poi mentre viaggi cominci a vivere nel viaggio e man mano che tu vai in viaggio i tuoi pensieri che continui a rimacinare mentre pedali sono fatti avvenimenti e successi durante il viaggio, quindi tu perdi la coda del tuo passato e tutto quello che sei, tutto quello che ripensi, tutte le cose che rivedi di te, sono cose che sono successe in quel viaggio lì, quindi è uno shake fatto con ingredienti diversi, bevi qualcos'altro alla fine quando versino, quindi sei veramente nuovo, sei veramente rigenerato ed è una cosa bellissima perché vedi come reagisci con stimoli totalmente nuovi, totalmente diversi, quindi è veramente un assaggiamento, sei un sapore nuovo. Senti Dino, ma invece il viaggio perché hai girato, quanti paesi hai girato, l'hai tenuto il conto, quanti stati hai attraversato? Ho bruciato tre passaporti, sicuramente più di 70, però ti incontro che io ci torno spesso, quindi 70 timbri diversi nel passaporto ma sei in Patagonia, se no ho tornato 10 volte per esempio, quindi... Ma qual è il posto che ti ha colpito di più? Il posto che dice ah, quello mi ha colpito di più, cioè quello è un posto imperdibile in base alla mia esperienza? Guarda, io facendo sempre viaggi lunghi e viaggi dove fai il all-in, cioè butti tutto, quello che sei sei tu al 100% lì, chiaramente in ogni viaggio ho degli episodi per dirti che questo qua è stato il viaggio più bello di tutti. Io dico sempre, quando mi chiedono quale è stato il viaggio più bello, io dico sempre il prossimo, perché se no non viaggerai più, non se dico ho già visto la roba più bella del mondo, non mi metterei mai più in sella alla bicicletta. Ti posso dire i viaggi che hanno segnato di più la mia vita, cioè quando sono stato in Siberia a meno 60, per motivi vari, insomma lì è stato un viaggio che mi ha segnato tantissimo, perché sai, quando sei in un viaggio dove percepisci spesso durante il giorno, che se sbagli ci lasci la pelle, sono tensioni diverse, conto S6 in Africa, se sei in Sud America, che pedali ti schiettando, in Siberia no, pedali tirando giù i santi sperando di non perdere le dita delle mani o dei piedi, sperando che non si rompa qualcosa della bici, se no ti trovano a settembre l'anno dopo. Quindi diciamo che come viaggio per me, cioè è stato il mio punto di svolta, dopo che sono sopravvissuto quel viaggio lì facendo mini errori, veramente avendo paura di non passare le noti, io avevo il sogno di essere attaccato in tenda da un orso, perché dicevo almeno finché mi sbrane lo abbraccio ed è caldo, perché pensavo ai debiti, pensavo a tutte le cose brutte per non addormentarvi, perché avevo veramente paura di, magari dico mi addormento, non mi sveglio più. Quindi questo è stato sicuramente un viaggio, un viaggio molto importante, poi visto che mi è fatto così tanto bene, dopo qualche anno l'ho rifatto un'altra volta con altre circostanze, però insomma diciamo che sul freddo sono abbastanza sul pezzo. Senti, e invece, ma come si affronta un'eventuale caduta ad esempio in bicicletta? Cioè stai appunto in Siberia, stai, non lo so, in un posto, in Patagonia, ecco, un po' lontano da tutto in quel momento, cadi con la bicicletta, ti rompi la gaviglia, cioè come ci sono? Guarda, ti dico, e secondo me il fatto che sono un fifone, ma mi ha fatto del gran bene, cioè io sono consapevole dei rischi, delle zone, quindi non prendo mai dei rischi, cioè se c'è una discesa, ed è divertente andare in discesa in bici, io vengo da ere in cui le bici e le cose che attaccavi, si va via con delle borse attaccate, no? Vengo da quella ere vent'anni fa, se tu facevi una discesa con una bici così pesante, così diciamo ruz, lo scopo era di arrivare in fondo con tutti i pezzi attaccati, quindi andavi piano, eccetera. Poi consapevole che se cadi fai un disastro e magari rimani lì, adesso io ho bici super performanti, attrezzature meravigliose, però nonostante tutto io la discesa la faccio ancora a quelle velocità lì di quando veramente erano scalzacani, perché so, sono consapevole che se succede qualcosa, che cadi perché puoi fare lo splendido, oppure cadi perché cede qualcosa a livello meccanico, è veramente un disastro, veramente qualcosa, cioè io ho tutte le attrezzature possibili e immaginabili, le chiamate satellitare di soccorso, ma sono consapevole che in alcune zone del mondo sono dei pagliativi per la famiglia che sta a casa e che sa che ce li hai, però non funzionerebbero mai. Un conto se sei sulle montagne rocciose negli Stati Uniti e usi dispositivi particolari, allora c'è una specie di allarme che ti vengono a cercare, ma in Siberia sapevo assolutamente che se avevo problemi schiacciavo gli SOS nel telefono eccetera, ma nessuno avrebbe mai risposto dall'altra parte, quindi devi assolutamente imparare a confidare in te stesso, quindi devi essere super preparato per andare in Siberia, io ci ho messo mesi a prepararmi, a preparare la bici, a studiare come fare, nessuno c'era mai stato io stato il primo, quindi ho dovuto studiare a livello fisica, a livello di come i materiali reagivano a temperature così bassi, quindi ho fatto delle prove, ho modificato tutto ciò che era plastica, l'ho trasformato in oggetti in alluminio, ho fatto un sacco di ricerca e un sacco di studi, e poi anche il comportamento del fisico, quelle temperature lì, quanto devi mangiare, come devi sudare, sono stato la cavia di me stesso, infatti la prima volta ti dicevo sono stato così tanto vicino da rimanere là, la seconda volta che sono andato in Siberia per un altro progetto sembravo un pattinatore sul ghiaccio, sapevo benissimo cosa dovevo fare, non ho fatto errori, avevo i materiali migliori, insomma c'è veramente uno studio per non cadere, il cadere è la cosa basilare, poi ho alzato sempre di più l'esticella per non commettere assolutamente errori, studio gli animali, studio le varie malattie che posso trovare, studio come ti dicevo le situazioni geopolitiche, non voglio trovarmi nei conflitti, mi è successo spesso di vedere troppe armi, di trovarmi in posti troppo caldi, quindi ho deciso di studiare, di capire di come mai, cioè quando viaggi in alcuni, come dicevi prima, confini africani dove ci sono bande di masai che si sparano per il controllo dei pascoli, oppure quando in Kurdistan passi da una zona protetta dai militari è una zona diciamo sotto l'influenza dei kurdi, insomma anche lì bisogna sempre capire un attimo dove vai, quindi l'unica cosa per non cadere e per non avere le brutte sorprese in viaggio è quella di essere preparati, c'è poco da fare. Sì, quindi diciamo il consiglio che tu daresti è innanzitutto dovete essere allenati, poi informarsi, studiare, giustamente tu dici io da profano ti dico non ti preoccupi di cadere, giustamente tu mi dici no la caduta è l'ultima cosa che mi preoccupo perché questa cosa lo so come evitarla, dici in realtà dietro c'è uno studio veramente a 360 gradi, cioè quando tu vai in Siberia non è che sali in bicicletta e ti fai il giretto della Siberia, giustamente affronti delle difficoltà che impari a conoscere proprio te in prima persona che spaziano dagli animali alle piante, anche immagino alle popolazioni che incontri, usi e costumi diciamo delle popolazioni. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ma guarda, quella roba lì è nello stesso lancio che ti dà la curiosità del viaggio, tu diventi viaggiatore perché sei curioso, vuoi conoscere gli altri, tu non puoi arrivare lì paracadutato in un posto, quindi la cosa che puoi fare è quella di, non è che puoi guardare il cielo e immaginarti perché si muovono le stelle, conosci la fisica, conosci un sacco di cose per capire di più ed è uguale quando tu se vai in India, cioè se tu ti svegli una mattina sei in India e non hai idea di cosa sia l'induismo, non hai idea di cosa sia stato il prima, veramente non riesci a codificare quello che vedi. Quindi è fondamentale imparare, capire, io veramente mi butto indietro, cioè ho fatto l'università storia dopo molti anni che avevo cominciato a viaggiare perché volevo capire cosa vedevo, cioè il principio base del viaggiatore in bici è che tu vai avanti perché vuoi vedere cosa c'è dall'altra parte, cosa c'è in fondo quella curva, l'altra cosa è che tu devi avere la capacità di decifrare e capire cosa c'è dall'altra parte della curva, quindi la voglia di andare a vedere qualcosa di nuovo è fondamentale, ma poi devi capirla e lo puoi capire solamente se è un bagaglio che ti permette di codificarla, quindi è fondamentale sapere come le persone in Siberia vivono perché da dove derivano, poi quando ci vivi lì, beh, è uno shock perché vedi cose incredibili, però c'è un'infarinatura di chi sono, perché sono lì, in che Dio credono, quali sono i loro costumi è basilare, sia per non comettere casini, sia perché è estremamente interessante. Certo, ma è bello, bel contenuto questo. Senti, ultima domanda perché ci dicevi che stai iniziando anche ad organizzare quindi dei viaggi di questo tipo, ma effettivamente se io domani volessi partire con te, è chiaro che non posso partire così, cioè come funziona la questione? Uno deve fare una preparazione atletica, cioè come funziona la cosa? Per poter dire, eh, io domani, quest'estate non lo so, organizzi il viaggio in Marocco, voglio venire, come funziona la questione? Guarda, ti dico, è stata una cosa per me casuale, nel senso avvento dei social, tu fai cose e il mio asso nella manica è sempre stato il tempo, io avevo tempo, avevo deciso di dedicare il mio tempo al viaggio, a capire, a conoscere le persone, quindi ecco, io avevo quella roba lì, ho cominciato a viaggiare perché avevo tutto questo tempo qua e ho visto che un sacco di persone che avevano la passione del viaggio volevano assolutamente fare esperienze da genere, ma chiaramente con meno tempo, quindi un sacco di persone mi scrivevano, oppure mi contattavano sui social, eccetera, per avere informazioni di viaggi bellissimi, posti stupendi, ma chiaramente senza la possibilità di spendere tutto il tempo che avevo io, quindi rispondi a centinaia di email, eccetera, poi mi sono reso conto che io avevo la possibilità e la capacità di creare la logistica, perché tutto sommato viaggiare in bicicletta è oggettivamente facile, il casino è incredibile, è arrivare a mettere le ruote in quel posto, quindi spedire la bici, far cose, visti, non andare, poi dove andare, eccetera, cosa che vuole una quantità di tempo e di nozioni di spipolare su internet molto consistente, quindi la gente ha cominciato a chiedermi, 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 oh fermi un attimo, io sono libero, vi porto io, e l'ho cominciato così, portando un po' di amici, un po' di qua, poi le persone hanno visto, hanno cominciato a interessarsi, ed è questa qua la chiave di volta, sono persone che sono già interessate, sono persone che già vanno in bici, sono tante volte fortissimi, però non hanno avuto mai il tempo di mettersi lì a capire come fare andare là, eccetera, eccetera, quindi ho detto, ragazzi, voi ci mettete le gambe, il sudore e il cuore, io ci metto il resto, e quindi adesso partiamo, andiamo, e cioè io ci metto questa roba qua che ho imparato negli anni, che è l'empatia con le persone, cioè io adesso in molti posti in cui andiamo, piuttosto che le Ande, piuttosto che l'Asia centrale, piuttosto che l'Africa, piuttosto che la Patagonia, l'Islanda, io riesco a risolvere problemi perché sono un cazzaro in qualche modo, con le persone del posto, c'è un'ottima empatia, in qualche modo ti tiro fuori dei casini, nello stesso tempo riesco a spostare cose in posti strani, il resto le persone ci mettono la gamba, quindi io non è che faccio più di tanto l'impossibile, riesco a mettere insieme persone che hanno la stessa passione in un posto bellissimo e poi il divertimento è sicuramente garantito perché io gioco facile, io ti porto nel posto, uno dei posti più belli del mondo, ti imbottisco il sangue di dopamine perché stai pedalato, stai facendo fatica e boom, salti fuori da un passo, c'è un paesaggio stupendo e ho vinto, quindi io gioco veramente sporco, so benissimo i posti più belli, ti porto in bici, quindi logicamente ti sto drogando il sangue ed è stupendo, creiamo dei gruppi dove ti assicuro quando ci fermiamo per andare a far pipì, ci mettiamo tutta la concentrazione possibile perché sia più veloce per tornare nel gruppo e continuare a sparare cavolate, a pedalare, però siamo tutti persone che vanno, è difficile trovare uno che arriva lì con una bici scassata, vinta con i punti del benzinaio e diceva, sono quante persone, perché ti dicevo sono persone che mi seguivano sui social e sanno insomma qual è la mia andatura a bici, nel senso io vado in posti non convenzionali, assolutamente, andiamo con le tende, insomma gente che ha un gran spirito di adattamento è un gran cuore nel senso perché lì veramente ci vuole un bel po' di cavalli insomma sotto il motore. Certo, 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 guarda è stata una bella intervista, insomma a me ha fatto piacere avviare questa nuova rubrica con te perché devo dire che appunto secondo me hai lanciato anche dei bei messaggi, cioè nel senso il piacere di conoscere gli altri, le altre culture, altri luoghi, quindi io ti ringrazio, ringrazio Dino, ringrazio Jottoline che ci hanno seguito e ringrazio Mario alla regia e insomma che sia, andatelo a visitare perché è un profilo che merita, il suo Dino Lanzaretti assolutamente merita e ciao a tutti, alla prossima, ricordatevi di iscrivervi al canale anche a quello in inglese, giù 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 giù, trovate tutto, ciao! Ciao!